La Emotion Hall nasce dalla convergenza di più considerazioni. Occorreva offrire ai nostri clienti un'esperienza che andasse al di là della semplice esperienza di acquisto, che intercettasse stimoli diversi che fossero anche di natura culturale e di intrattenimento. Un'esperienza alla scoperta delle opere pittoriche di un artista, con i linguaggi e le tecnologie dell'arte contemporanea, in un modo che assolutamente rende il pubblico protagonista dell'esperienza stessa. Questa è la prima struttura permanente immersiva in Italia. In realtà simili a questa ce ne sono in Francia e in Giappone. Pensare che un centro commerciale possa immaginare un luogo così è straordinario. Emotion Hall è una nuova realtà anche dal punto di vista architettonico. è stata realizzata ad hoc tenendo in considerazione tutte le necessità che anche questo periodo ci ha richiesto. È uno spazio molto ampio dove appunto c'è la sicurezza della visita. Emotion Hall sarà un contenitore di arte in senso molto ampio. Parlerà di musica, di teatro, di pittura. In un linguaggio semplice, immediato, immersivo e fuori dai luoghi istituzionali. E non vediamo l'ora di farvi vedere Emotion Hall. E non vediamo l'ora di censorship. ... ... Grazie a tutti